Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Corriere C'è. Come al solito vi faremo compagnia per qualche minuto della vostra giornata e vi racconteremo le news più importanti dal mondo. Ma in realtà noi potremmo fare pure una cosa molto così live, in diretta, tanto già siamo in diretta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata del video podcast diretta su Facebook che poi finirà su tutti i social possibili e immaginabili di Corriere C'è. Noi oggi siamo qui, siamo in diretta, anzi chiedo poi alla regia che fra poco vi mostro, non vi preoccupate, di farmi sapere pure se è tutto a posto, insomma se ci sentite dateci qualche indicazione. Come al solito prima di partire di presentarvi l'ospite che sicuramente avrete già capito chi è dal titolo e dalla pubblicità che abbiamo fatto ieri, peraltro mi avete intasato la bacheca di Facebook. Quando si pubblicano cose con il direttore le bacheca di Facebook fanno scintille. Prima di partire io devo salutare i miei colleghi di avventura e lo faccio andando prima dietro alle camere salutando il maestro, colui che tutto può, tutto sa e tutto fa, Andrea Caprarelli. E poi saluto l'altra penna, l'altra voce, il mister, Guglielmo Ferrazzano. Buongiorno a tutti, buongiorno. Guglielmo come stai? Vabbè un po' allergico oggi però tutto bene, dai non ce la mentiamo. E' periodo, è periodo, ma arriviamo alla ciliegina sulla torta, a colui che sta molto a disagio ma che non dovrebbe stare a disagio perché è il papà putativo di tutti noi che facciamo cose, ovvero Luigi Enrico, direttore della biblioteca di Cesana, Sant'Omaso d'Aquino di Pinimonte Madese. Luigi tu sai come mettere a proprio agio le persone, vero? Sì, ok, quindi ciliegina sulla torta, papà putativo, mamma rogarmi. Saluti a tutti, bentrovati. E grazie per questo invito. Allora G, noi lo diciamo a tutti, con te ci sta una certa familiarità quindi ci permettiamo insomma di usare anche questi slang, questo linguaggio molto così alla mano. Prima di partire con questa diretta, come al solito io a parte ringraziare insomma le persone, i ragazzi qui, presentarvi Gino eccetera eccetera, vi devo ricordare una cosa, noi in questo momento siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook, quindi se avete curiosità, avete impressioni, volete mandarci qualche saluto, cose di questo tipo, fatecelo sapere, scrivetelo in chat perché noi comunque vi leggiamo e quindi insomma cerchiamo di instaurare questo rapporto molto interattivo con voi. Detto questo, Gino, noi lo raccontiamo sempre e ogni volta, stiamo qui, abbiamo la sede della redazione a Piedimonte Matese, qui ti conoscono praticamente tutti, ma siccome il corriere arriva in ogni angolo del mondo, la domanda di rito che ti dobbiamo fare prima di partire è questa. Qualora ci fosse qualcuno che non ti conoscesse, dici chi sei, cosa fai, l'età non ce lo dire perché tanto lo sappiamo che sei un quarantenne di Cambridge, però raccontaci un attimino chi sei e cosa fai. Ti ringrazio per il quarantenne di Cambridge, ho dimenticato di dire che sono un giovane attempato quarantenne di Cambridge. Non lo volevo dire. Allora, Luigi Arrigo, per gli amici Gino e per i social Luigi Gino, così ci comprendiamo. Sono direttore della biblioteca diocesana a Piedimonte Matese, lavoro lì da 22 anni, direttore da una quindicina d'anni. Mi occupo soprattutto quindi di cultura, di animazione culturale e in questi anni la missione fondamentale è stata quella, grazie anche a chi mi ha dato questo incarico, che mi ha dato fiducia, è stata quella di rendere una biblioteca privata, di fatto privata, prima ancora che ecclesiastica e quindi diciamo una biblioteca specializzata e che aveva una determinata missione nei secoli e negli anni passati, di renderla però un luogo aperto al pubblico, un luogo da vivere, un luogo vissuto, un luogo dove fosse possibile incontrarsi senza alcun tipo di remore, paure nel confronto. In sintesi, questo è. Si è preparato bene. Io credo, collega, credo che il ragazzo qui abbia studiato. Bene, bene. All'inizio ci sono i presupposti per una votazione positiva. Comunque guarda, sfricoliate pure, cioè approfondite perché a me piace se approfondite e quindi mi mettete in condizione di dire altro. Allora, io sono quello che ci mette la faccia all'inizio, poi lascio tutto al maestro. Bene, si sta stiracchiando il maestro, quindi è bau. All'altro maestro che già lo vedo che si sta riscaldando, quindi vai, ti cedo la parola. Per la serie, veditela tu. Allora, Luigi lo conosco da qualche anno, magari non in maniera, diciamo, approfondita come farebbero amici o quant'altro, però è sempre impegnato. Quindi la mia domanda è anche un po' di curiosità. Come si svolge, è abbastanza semplice per te come domanda, poi quelle più complesse verranno tra poco. Com'è la giornata tipica di un direttore di biblioteca diocesana? Perché noi immaginiamo sempre, sbagliando, che nell'immaginario collettivo chi lavora in biblioteca, chi è un direttore bibliotecaio, sostanzialmente non si sente offeso. Nessuno, questo è uno stereotipo, non fa nulla, oppure il classico topo da biblioteca sta lì che legge al massimo cataloga. Ma come si svolge una tua giornata tipo? Eh, questo è benissimo, questo ci vuole. Chi viene in biblioteca, la cosa più simpatica, ti rispondo con questo, che è una biblioteca che è molto frequentata. È frequentata anche da giovani, soprattutto, che magari vengono durante il loro percorso universitario, sia per studiare, sia per fare i cosiddetti tirocini formativi. E là mi diverto, non, diciamo, sarcasticamente, per carità, perché questo stereotipo è veramente molto diffuso. Quando vengono a fare il tirocino, per esempio, pensano che l'attività in biblioteca sia quella che tu hai appena descritto. Poi restano stupiti e se ne vanno via, dicono, ma come fai a fare tutte queste cose? Eh, ce la si fa, con la passione. Qual è la giornata tipo? Innanzitutto, beh, diciamo dall'inizio, anche se in effetti la giornata comincia il giorno prima la sera, quando arrivi a casa, dopo aver cenato, ti rifletti un po' di domani come la metto? Comincia da lì la giornata, dalla sera prima, quindi comincia a fare un po' il piano. Domani dovrei fare così, così, così. Quindi, predisponi il tutto, quindi predisporre, diciamo, le attività dei volontari, dei tirocinanti, predisporre quelle dei collaboratori a progetto, che catalogano, sono loro che catalogano, e quindi cominciare anche a vedere se ci sono scadenze. Quando arrivo in biblioteca, classiche cose da ufficio, da ente, che quindi deve controllare la posta, posta elettronica, posta fisica, vedere se ci sono email, richieste di document delivery, ovvero sia queste richieste che arrivano dall'esterno tramite email, tramite l'app che abbiamo installato e che è a disposizione, che si chiama Bibliodac, tra l'altro, quindi la trovate sugli store, su Play Store, insomma, quelli tipici da Android oppure da Apple, e quindi vedere le richieste che arrivano. Richieste di che tipo? Mi serve questo libro, visto che voi ce l'avete, nel catalogo nazionale, perché siamo in un catalogo nazionale, e quindi devi vedere se il libro è digitalizzabile, fotocopiabile, prestabile, attraverso un prestito, diciamo, interbibliotecario, quindi fare tutte le procedure possibili. Rispondere ad eventuali richieste di ricerca, c'è chi dice che devo fare la tesi, dovrei fare una bibliografia, questo, e eventualmente assegnare questi compiti ai tuoi collaboratori. Cominciare ad accogliere l'utenza con le procedure di ingresso, che sono molto automatizzate, quindi molto veloci, però se qualcuno arriva che non è iscritto, lo fai iscrivere, scaricare l'app, si iscrive, l'ingresso è assolutamente gratuito, puoi soffrire di tutti i servizi. Dopodiché, vedere se ci sono scadenze tipo progettuale. Di solito noi abbiamo un'attività progettuale molto intensa, sia per reperire fondi, per progetti, per lavori che altrimenti non si potrebbero fare se non ci fossero contributi esterni, sia una progettazione che riguarda l'animazione culturale durante tutto l'anno, che deve essere coordinata, deve essere coerente con una linea che c'è data, a voi per esempio l'editore può dare una linea, a noi per esempio ce la dà l'attività pastorale del Vescovo, dice, sa, quest'anno ci occupiamo, seguiamo il filone della laudatosi sull'ambiente di Papa Francesco, piuttosto che quella di Fratelli Tutti, che è di ambito sociale, e lì sviluppare delle idee che non sono poi molto ristrette, cioè che non siano strettamente collegate a un ambito pastorale, teologico, come uno immagina possa essere una biblioteca ecclesiastica. Quindi invece svilupparle, e quindi cercare di dialogare con tutti, eccetera, è un lavoro di elaborazione mentale, di ricerca continua, soprattutto di collaboratori, di persone che si mettano a disposizione. Questo, qualcuno tossisce perché è stato precettato da qualche tempo. Uno ha un colpo di tosse. Chiedo scusa a casa. Luigi, allora, ti faccio io una domanda, Luigi, visto che hai tossito e tutti hanno capito che fai parte di questo team, come ti sei trovato a far parte di questo team? Cosa vuoi che ti risponda davanti al microfono? Cioè, dall'intervistatore divento, dall'intervistatore divento intervistatore. Malissimo, ovviamente, come vuoi che ti risponda davanti al microfono? Malissimo, malissimo. Ti sei trovato male? Io? Assolutamente sì. Bene, ok, infatti. Quindi c'è anche lo sfruttamento della mano d'opera. Assolutamente, diciamo, gli schiavisti. No, è in piena linea tradizionale per volontariato. Poi ti faccio vedere i me-time sheet come sono. No, in effetti, ecco, questa è una bella cosa. Quattro anni fa, forse, non ricordo, facemmo un corso estivo, lanciai quest'idea. Allora, avevo un gruppo di tirocinanti. I tirocini sono, insomma, i giovani studenti universitari lo sanno molto bene. Sono tirocini obbligatori che si devono fare presso enti, convenzionati con le università, per avere un tot di crediti per poter raggiungere la laurea. Ed è chiaro che quello è un periodo gratuito, di volontariato gratuito, eccetera. Facemmo, per preparare questi giovani, io pensai di fare un corso estivo intitolato Volontariato in biblioteca perché no? Pensando di avere questi 4-5 giovani che comunque avrebbero dovuto fare il tirocinio nel corso dell'anno Più qualche altro amico. E invece il corso ebbe una risonanza incredibile, cioè vennero pure dal Beneventano, per dire. Perché c'è tantissima gente che vuole mettere a disposizione il suo tempo, in una sorta di banca del tempo. E quindi voleva capire come funzionava una biblioteca. Da lì mi venne in idea, ok, tu vuoi fare volontariato, facciamo quindi un contratto di volontariato vero e proprio, laddove è possibile c'è un rimborso spese per le spese, diciamo, vive che uno può sostenere, di trasporto, di trasloco, come dire, queste spese qua. E però durante questo volontariato non solo tu ti impegni, ma devi anche apprendere delle competenze. Se apprendi delle competenze farai parte di un team di progettazione e se questa progettazione va a buon fine e io ricevo un contributo, come è successo lo scorso anno, per un'iniziativa della biblioteca, un contributo pubblico della Regione Campania, per esempio, allora se tu hai partita IVA oppure se non hai partita IVA facciamo una lettera di incarico, quella classica con la classica ritenuta d'acconto, vai avanti così, perché io credo molto nel volontariato, l'ho sempre fatto e lo continuo a fare. La mia giornata lavorativa dovrebbe essere di sei ore e mezza, in biblioteca ci resto anche dieci ore, dovrei lavorare cinque giorni a settimana e forse ne lavoro sei, in alcune circostanze anche sette, perché pure se sto a casa ideo, insomma, e quindi mi metto lì a progettare. Però credo pure che i giovani non possono vivere sempre di volontariato, non posso assicurare posti, io figuriamoci, sono io un dipendente, non posso assicurare, come dire, che ti devo dire, una sostenibilità, hai avuto l'incarico quest'anno ce l'avrai per dieci anni consecutivi, però una cosa che ho visto in questi 22 anni è che si può assicurare formazione, prima esperienza lavorativa anche remunerata, e di conseguenza se tu motivi le persone e soprattutto fai capire che non stai solo dando, ma stai tanto ricevendo, e poi dopo dico una cosa su questa cosa, i giovani possono motivarsi a tal punto da rendersi totalmente autonomi e indipendenti e poi andare altrove e superarmi alla lunga, perché il vero maestro, Luigi Pia lo sa, lo ripeto in una condizione, è quello che si accontenta solo quando vede che l'allivo è andato molto oltre. Io perciò credo che Cimabue sia un grande, sia più grande di Giotto, perché Cimabue ha pensato, Giotto mi ha superato alla grande, quindi io ho realizzato il mio sogno. Non è che mi voglio paragonare Cimabue, per carità, io faccio una cosa e ne sbaglio due, veramente. Il livello culturale di questa ghecchierata è troppo aulico, troppo alto, tranne la mia sedia che ogni tanto si abbassa. Si abbassa, si abbassa. Gino, allora, io ovviamente vado anche per domande molto tene. Assolutamente, sì, anzi se mi allungo troppo voi tagliate, mi sono stop. Per quanto riguarda invece la biblioteca, quanti volumi più o meno avete, come li catalogate, hai fatto scena alla questione della biblioteca nazionale, diciamo questo indice nazionale, insomma da un punto di vista prettamente numerico, che numeri ha la biblioteca? Allora, la biblioteca ha attualmente 44.000 volumi, di questi inseriti in indice nazionale ce ne sono 30.000, per il resto stiamo lavorando all'acrementi anche con il servizio civile, anzi ringrazio i due volontari del servizio civile di quest'anno, Antonino Cestaro. Antonino, tanti auguri, ieri 110 all'Ode. Esatto, ciao Antonino. Siamo tutti felici per te. Tanti auguri. E Antonio Orsi, che adesso sta reggendo la reception della biblioteca al posto mio. Sono quindi 30.000 volumi catalogati e 44.000 posseduti. Magari, ecco una cosa importante, che si immagina, beh, la biblioteca ecclesiastica, trovo tanti volumi di religione, catechismo, eccetera, eccetera. Pensate che su questo numero così grande, i numeri di testi che afferiscono alle discipline teologiche o di scienze religiose, si aggiano intorno agli 8.900-9.000. Quindi meno di un quarto. E questo non è perché io sono così laico, e mi ritengo un laico, cattolico impegnato ma laico, ma da non preferire le scienze religiose, ma perché bisogna capire che la biblioteca ecclesiastica nasce a servizio di un seminario. Il seminario era vero il luogo dove studiavano i futuri preti, ma è anche il luogo dove prima si studiava la classe dirigente di un paese. Non tutti i seminaristi diventavano preti, molti diventavano medici, infermieri, gli avvocati, i notabili del tempo, diciamo così. Fino agli anni 60 il liceo classico di Piedimonte era quello del seminario. La parifica che il liceo classico aveva ricevuto è stata poi donata al comune, divenne liceo classico comunale, poi dopo di che liceo classico statale. Quindi un liceo doveva avere testi umanistici, ecco perché già c'era un fondo umanistico su cui lavorare, e poi l'abbiamo aumentato. Adesso addirittura da qualche anno, grazie a contributi di persone tipo il signorino qui alla mia sinistra, oggi Marchetta Luigi proprio... Eh no, nel senso che poi quando tu conosci le persone, ecco quello che dicevo prima, lui, divulgatore scientifico, comunque così, insieme con altri collaboratori, Pierluigi, Reveglia per esempio, Chiara e così via, mi hanno anche spinto a iniziare dei fondi nuovi scientifici, di divulgazione scientifica, proprio per un dialogo costante anche con altre discipline. L'indice nazionale, dicevi prima, la nostra biblioteca è stata la prima ecclesiastica della campagna ad entrare in SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, che fa capo alle biblioteche nazionali e al Ministero dei Beni Culturali. Adesso a Piedimonte ce ne sono tre di biblioteca del Servizio Biblioteca Nazionale, anche quella di Santa Maria Occorrevole, biblioteca del convento, che abbiamo a suo tempo, nel 2004-2005, inserito nel sistema nazionale, e poi la biblioteca comunale, anzi quattro, perché anche la biblioteca dell'Associazione Storica e del Medio Volturno è in SBN. E anche la biblioteca comunale, diciamo, posso dire di aver collaborato con Laura Leonetti, che ha lasciato il suo incarico proprio ieri, di bibliotecare la biblioteca comunale, a lei facciamo tanti auguri, proprio per inserire la biblioteca comunale nel sistema bibliotecario nazionale. In questo modo, il patrimonio di una biblioteca, una volta che si entra nel sistema nazionale, non sono più 44 mila conservati da me, ma si amplia in un numero indefinito, perché se viene uno studente da me, può anche scegliere un testo, come è capitato, di matematica, di fisica quantistica, eccetera, che io non ho, ma io posso chiederlo in prestito alla biblioteca, che ne so, del Dipartimento di Scienze Naturali di Bologna, cosa che è avvenuta. E quindi il libro mi arriva in biblioteca, attraverso un sistema appunto di persone interbibliotecari, lo studente può avere quel libro a disposizione senza muoversi da qui. Per quanto riguarda invece, mettiamo caso, si scopre, scoprite voi in qualche armadio segreto, pergamene antiche, libri comunque antichi e delicati. In quel caso, come avviene eventualmente la catalogazione, la conservazione anche dei testi, perché non tutti magari reagiscono bene all'umidità o alle condizioni, cioè praticamente alla temperatura? Come avviene? Sorrido, perché voi tu non sai che ieri sono stato a Roma. È vero che non lo sai, non so se è stata la tela. Ancora non faccio lo studio. mi sembra quasi una domanda concordata, perché ieri sono stato a Roma, devi sapere che esiste a livello nazionale al Ministero, esiste un dipartimento, che una volta si chiamava di patologia del libro, la patologia del libro, e adesso si chiama della conservazione del libro e del documento, insomma, quindi anche degli archivi, delle pergamene, e sono stato lì in questo dipartimento, perché uno dei problemi più grossi è proprio la conservazione, la fruibilità. C'è una legge fondamentale, ci sono le cosiddette cinque leggi di Ranganathan, che era un bibliotecario indiano, perciò questo nome, che una di queste dice che i libri esistono per essere usati. Quindi anche un libro raro, antico, prezioso, una pergamena, non ha motivo di essere, se tu non lo metti a disposizione. Quindi diceva, no, ma si deve conservare, dobbiamo metterlo in una teca. Poi la stessa parola biblioteca, ti dà quest'idea di una teca preziosa, dove le cose non si toccano, no, dobbiamo tornare al concetto originario, la teca conservava le cose più preziose da mettere in mostra, da dare, da far vedere, questo è il concetto originario di questa parola. Ecco, la stessa cosa, nel momento in cui io vengo a trovare un documento antico, un libro raro, eccetera, la mia prima preoccupazione deve essere quella del suo stato di conservazione. Quindi devo monitorare la situazione. Se è un libro che in quel momento, cosa che mi è capitata, è affetto da muffe, vive, oppure è attaccato da roditori, i topi, oppure da scarafaggi, insetti vari, xilofagi cosiddetti, cioè che mangiano anche la carta o la pelle, devi immediatamente preservarlo, bloccare quello stato di infestazione. Se ci sono delle procedure, tu ti devi riferire a quelli che sono gli standard stabiliti proprio dal dipartimento di cui parlavo prima. E noi abbiamo dei contatti importanti, abbiamo fatto da poco concluso un corso online, qui hanno partecipato 256 bibliotecari a livello italiano, in cui abbiamo anche affrontato il problema della conservazione. Dopodiché il libro va reso disponibile, lo devi pubblicare, devi far capire, ce l'ho. Conservare, preservare non è nascondere, ma è proprio pubblicare. Se tutti sanno che io ho una pergamena rara, non è che la sto mettendo in pericolo perché me la possono rubare, no, perché seppure dovesse succedere che me la rubano, e dopo vi dico un aneddoto reale, è successo, seppure dovesse succedere, il fatto che tutti sanno che quella era mia, è facile che io poi la ritrovi. Quindi la devo rendere nota questa cosa. Come si fa? Prima di tutto magari organizzo una mostra, organizzo una visita didattica, ma prima ancora magari la digitalizzo e la rendo fruibile attraverso internet. Sul nostro sito della biblioteca, bibliodac.it, c'è una sezione digitale in cui ci sono all'incirca 300 volumi digitalizzati, cioè libri antichi, pergamene, documenti, digitalizzati. Siamo nell'ordine delle 200-250.000 pagine disponibili online, di testi, di documenti che vanno dall'anno 1700, non 1700, 1007, fino al 1830. Quindi è veramente un patrimonio incredibile, è disponibile a tutti, si può andare online e lo si vede, lo si trova. In alcuni casi è possibile anche scaricarlo. Quindi già in questo modo tutti possono avere accesso a questo patrimonio. Poi c'è lo studioso, quello che non solo studia il testo, quindi deve capire cosa c'è scritto, ma deve anche vederne la consistenza materiale, perché un documento antico vale non solo per il racconto, per quello che c'è sul testo, ma vale anche per il racconto della materia, di come è stato fatto, come è manufatto. È un'opera d'arte, quindi devi sapere anche l'impegno e l'arte del legatore, del tipografo, del cartaio, di quello che ha prodotto la carta. C'è una storia infinita sul documento antico e quindi magari c'è qualcuno che ha bisogno di toccarlo, di vederlo, può prendere appuntamento e venire in biblioteca. Anzi, magari qualche volta organizziamo una visita, le telecamere in biblioteca andiamo a vedere questi documenti da vicino. Che ne dite? Documenti segreti antichi. Assolutamente, sì. Vabbè. Un'ultata dei misteri, tipo Giacobbo. Esatto. Oh, voi quanti misteri, perché poi si pensa che chissà vuoi i misteri segreti. È vero che abbiamo trovato cose particolari, tipo il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe. Questi libri un pochino che si usavano, oppure che ne so, la descrizione di come si faceva il processo alle streghe nel 400. Cosa è così, insomma. E' altro periodo storico, altre cose. Abbiamo trovato per esempio in alcune biblioteche anche dei ricettari antichi del 600. Però quanto sono affascinanti queste cose, eh? Questa per me è una cosa pesante, una cosa brutta. Sono molto... Vabbè, tu lo sai, insomma. Sì, vabbè. Con me, insomma, sfondi non una porta, ma un portone aperto. Però, in realtà, sì, queste sono le chiacchierate che ci servono, perché, secondo me, smontano i luoghi comuni che ci sono su tantissimi, tantissimi, tantissimi posti. È bello ascoltare queste cose. Cioè, mu mi hai intricato con la questione... No, io voglio sapere. Allora, facciamo così, perché abbiamo tempi televisivi. Certo. Purtroppo, per fortuna, per tanti... Facciamo venire la curiosità, poi possiamo... Raccontiamo un aneddoto, magari, che ci volevi dire prima. Sì, allora, è capitato questo. Sono due, in effetti, no? A un certo punto mi chiamano i carabinieri del nucleo... Oddio, come si chiamano? Comunque, quelli che recuperano i beni culturali. Ecco, non ricordo adesso... I carabinieri culturali. La definizione precisa. E mi mandano... Dice, guardi, abbiamo trovato dei documenti che, secondo noi, potrebbero riferirsi a essere appartenenti al vostro archivio storico, alla vostra biblioteca. E quindi mi hanno convocato a Castel Sant'Elmo. Sono andato lì, ho visto che questi documenti, effettivamente, erano documenti che portavano i timbri della biblioteca del seminario. Diciamo, erano stati sottratti prima del 2000, quando il compianto Vescovo Farina decise di riaprire al pubblico, di affidarmi questa biblioteca e di riaprirla al pubblico. E quindi, ecco, il documento era stato timbrato, era stato inventariato in un inventario del 1857, mi pare, che conserviamo ancora in volumi in biblioteca. Quindi, grazie a questa cosa, abbiamo recuperato dei documenti che non so quando sono stati sottratti. Ma, di fatto, c'era un inventario, c'era un timbro, l'abbiamo potuto fare. Un'altra cosa, invece, è capitata mentre io ero responsabile della biblioteca. Avevamo avuto in donazione dal professore Manzo, come l'ascito testamentario, la sua biblioteca. La biblioteca, tra l'altro, ecco, che ci fece fare il volo perché erano circa 5.000 volumi di filosofia, retorica, letteratura classica, latina e greca. Quindi, veramente, è una cosa importante che ancora oggi viene molto consultata e testi che vengono richiesti. Pensa che 15 giorni fa è venuto a una ricercatrice all'Università di Foggia per visionare di persona un testo, alcune pagine che, insomma, lei non riusciva a trovare in altre biblioteche. Ecco, avevamo la biblioteca invasa da cassette della frutta in cui c'erano i libri. Purtroppo, diciamo, chi aveva fatto l'esecutore testamentario li aveva trasportati così. Avevo messo delle persone a lavorare. Insomma, a un certo punto ci siamo accorti, ma per puro caso, perché era venuta una studentessa dell'Accademia delle Belle Arti a vedere delle incisioni di un testo raro, ci siamo accorti che in questo testo mancavano le incisioni. Io ero sicuro che ci fossero. Cioè, lei le vide, dice, il testo è mutilo, vado via. Comunque è mutilo, quella è la mia chicca, cioè, una cosa in cui avevo lavorato. No, è mutilo, andate a vedere, erano state tagliate, c'era stata questa frequentazione in quei giorni della biblioteca, tante persone, erano state tagliate le pagine con le incisioni. C'è un mercato delle incisioni antiche floridissimo, erano incisioni tra l'altro rare, perché un testo era la cabbala, la cabbala ebraica ed egiziaca, quindi un testo che era stato messo anche all'indice nel 600, quindi immaginate quanto raro fosse. E io sono andato veramente in coma, cioè, da quando c'ero io i libri erano aumentati in biblioteca, non erano diminuiti, qua mi avevano saccheggiato sta cosa così. Morale della favola. Il libro era il primo, libro che avevo digitalizzato, grazie a Mario Tartaglia che è stato uno storico collaboratore della biblioteca che realizzò all'epoca anche il primo sito e anche il sito attuale è stato realizzato da lui. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario. Avevamo, quindi lui si era occupato di fotografare pagina per pagina questo testo e l'avevamo messo online sul sito, ma stiamo parlando di un sito realizzato penso nel 2002-2003, quindi con il primo OPAC, quindi veramente era una cosa proprio nuova in quel momento, quindi io avevo la testimonianza reale che quel documento era integro fino a quel momento, quindi qualcosa era successo perché non mi credevano, dico la verità, neppure il vescovo che ora sta in paradisi insomma non può testimoniare dal vivo, ma anche lui mi ha creduto su questa situazione. Quindi grazie a quella cosa potetti fare una denuncia che divenne pubblica, la persona che si rese protagonista di questo accidenti diciamo così, si commosse, permettetemi questa questa terminologia, e io ho recuperato 21 libri, non era solo quello il libro saccheggiato. Dalla stessa persona? Sì. Ladri professionisti. Eh sì, perché vi ripeto, era una situazione, un momento molto particolare. Perché mi viene in mente la canzone di Andarello Ventitti in questo mondo di ladri? Diciamo che era un accidente che gli era capitato, un incidente di percorso. È passato con la mano e mi sbaglio. Però avevamo, grazie al catalogo, grazie alle fotografie, eccetera, potevamo dimostrare che quel libro c'era, io ovviamente avevo il registro d'ingresso delle persone, quindi in un modo o nell'altro ci saremmo arrivati, voglio dire, e infatti erano cominciate le indagini interne, diciamo così, alla situazione. Però ecco, quindi se io invece quel libro l'avessi nascosto così, la parola mia contro niente, invece il libro va catalogato, va reso, l'opera d'arte va catalogata, va resa fruibile, va resa, va fatta conoscere, nascondere non fa mai bene. Sì. Luigi, secondo me possiamo la condivisione, la condivisione prima di tutto. Abbiaci, fai tu, diciamo, le... Così come ho fatto l'apertura, così come ho fatto l'apertura, faccio pure la chiusura. Allora, Gino, grazie, io penso a nome non solo di noi che abbiamo imparato qualcosina sulla biblioteca, ma insomma pure a nome delle persone che ci hanno seguito da casa, perché veramente hai smontato tantissimi luoghi comuni, te lo ripeto, che per chi frequenta le biblioteche non esistono in nessun posto dell'universo conosciuto, però per chi non frequenta la biblioteca insomma sono cose che è utile smontare. Quindi niente, ti ringrazio. Guarda, io ringrazio voi perché insomma di solito accetto sempre ogni tipo di confronto perché voglio far conoscere e smontare questi luoghi comuni e approfitto se mi dai il permesso voglio approfittare di una cosa Ho paura. No, 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 non avere paura assolutamente. La nostra è una biblioteca che ecco da giovane è tempato quarantenne di Cambridge sempre ho fatto piacere lavorare con i giovani infatti accetto ogni loro proposta oh, sono stato giovane purì quindi mi ricordo come si fa, no? Diciamo l'abbiamo resa molto social la biblioteca e grazie pure alla pandemia che cosa terribile dire grazie alla pandemia abbiamo anche avviato un'avventura web online come posso dire per cui invito tutti dal 20 del mese di questo mese aprile ogni mercoledì manderemo in onda il nostro BG Cult non facciamo diciamo come dire concorrenza a voi però è un bibliogiornale culturale anche perché del resto siamo gli stessi che stiamo facendo ma guarda un po' ma perché smonti questa cosa la nostra zona quelli siamo che facciamo però vedi ecco questa è la testimonianza che la collaborazione nella rete funziona quindi seguite il nostro BG Cult mettete like alla nostra pagina Instagram Bibliodacco Biblioteca di Cesana Pirionde Matese Facebook ovviamente grazie infinite a tutti perfetto allora io prima di chiudere devo vedere perché ci sta ah perfetto ok mi è arrivata la comunicazione dalla regia giustamente che mi ricordano di salutare le persone che ci hanno commentato durante la diretta e che soprattutto che ci hanno seguito durante questa diretta frattempo Andrea mi mette benissimo quindi niente grazie io ovviamente ringrazio nuovamente Gino ringrazio Andrea che dalla regia ci dà una mano a gestire camere dirette e caole varie ci dà i suggerimenti utili ringrazio il mio collega di avventure Guglielmo Ferrazzano ciao Guglielmo ciao e niente grazie a voi grazie per averci seguito noi ci rivediamo non lo so se in questa settimana perché vi pubblicheremo un po' di contenuti che sono venuti fuori la settimana scorsa quindi probabilmente questa è l'ultima diretta che noi facciamo prima di Pasqua quindi ne approfittiamo per lasciarvi pure gli auguri per le festività pasquali ci rivediamo molto probabilmente settimana prossima fra un paio di settimane non lo sappiamo stiamo in via di definizione del calendario ma niente grazie a voi che ci avete seguito in diretta a voi che ci avete guardato su Instagram su YouTube e caole vari a voi che ci avete invece solamente ascoltato e noi ci rivediamo alla prossima puntata delle video interviste podcast insomma avete capito firmate Corriere C'è Grazie a tutti